Antonella Elia infiamma lo studio di Verissimo. Momenti di imbarazzo e rivelazioni inaspettate. L'arrivo di Antonella Elia nel salotto di Verissimo ha creato subito il caos. La showgirl, con la sua personalità effervescente, ha regalato a Silvia Tuffani in un'intervista fuori del comune. Come ha sottolineato la stessa conduttrice, ogni intervista con Antonella è un'esperienza unica. E infatti, anche stavolta, non sono mancate le sorprese. L'intervista è iniziata con un tono pacato, toccando temi delicati del passato di Antonella, come la perdita della madre e l'assenza del padre, eventi che l'hanno profondamente segnata. Ma è quando si parla del suo percorso televisivo che la Elia si lascia andare, ripercorrendo i successi di Non è la Rai e la Ruota della Fortuna. Il vero colco di scena arriva però quando Antonella, parlando della sua relazione con Pietro delle Piane, rivela un curioso aneddoto al grande fratello baciavo tutti, vuoi che ti baci anche te Silvia. Una proposta che ha lasciato Toffanin senza parole. Ma non è tutto. Antonella confessa che Pietro le ha chiesto di sposarlo due volte, ma lei, al momento, non ha alcuna intenzione di convolare la nozze. La ciliegina sulla torta. La rivelazione che ha dimenticato l'anello di fidanzamento in valigia. Come reagirà Pietro a questa nuova marachella?